Questo è l'angolo di Radio di Massa, abbiamo visto che il video sarà che sono precario, è stato girato proprio nello spazio di massa dove è nata la nostra radio, la radio che è anche un po' quella di tutti gli studenti e dallo spazio di massa si è trasferita allo spazio di massa Reloaded con una nuova occupazione dove abbiamo la nostra regia e dove va in onda il nostro palinsesto diurno, mentre quello serale lo possiamo ascoltare dalla regia del Laboratorio Occupato SCA che si trova nei pressi di Piazza del Gesù. Esattamente, a proposito di Laboratorio Occupato SCA, proprio ieri abbiamo tenuto la diretta dell'ultima delle quattro giornate francofortesi ed è proprio l'argomento che andiamo adesso ad approfondire con una compagna che è appena tornata da Francoforte. Dal 16 al 19 maggio si è tenuta questa manifestazione internazionale a Francoforte contro lo strapotere di quella che è stata definita la troica, costituita dalla Banca Centrale Europea, dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale, le cui politiche di austerità si abbattono sulle nostre vite in maniera determinante e durante tutta questa giornata in qualche modo è emerso proprio questo. È stata una manifestazione contrastata su tutti i fronti da una macchina repressiva messa in campo in maniera assolutamente spropositata sin dal primo giorno, ma che si è conclusa ieri con una manifestazione che finalmente è riuscita a sfilare nonostante i divieti imposti. Brevemente su questo movimento leggiamo in giro che si tratta del risveglio del movimento Occupy dopo l'inverno che prende le mosse dagli indignados nel maggio 2011 e che si distribuisce presto in tutto il mondo sfociando in movimenti cardine come quello di Occupy Wall Street, tutti ispirati alla primavera araba. Questo preambolo è per dire che nel mainstream si parla di risveglio dopo l'inverno, noi con la radio abbiamo tentato con la diretta di ieri e comunque con i collegamenti di queste giornate con Francoforte, di mostrare come dal nostro punto di vista quel movimento non si sia mai addormentato e anzi si è declinato nel nostro territorio durante tutto l'inverno attraverso le lotte dei precari del terzo settore, dei disoccupati, degli studenti, dei comitati per la casa, si è declinato quel movimento anche nelle lotte contro le devastazioni ambientali, quelle per la sovranità alimentare, quelle dei migranti e delle donne. Movimenti questi che non nascono con l'Occupy degli hashtag, delle tende o di Zuccotti Park, ma che si inseriscono in quel percorso per quello che riguarda la denuncia alle politiche di austerity delle banche, che si traducono in smantellamento del welfare, continua precarizzazione delle nostre esistenze e sfruttamento crescente. E allora Francoforte, luogo simbolo del capitalismo europeo, siamo con Serena che è tornata ieri e alla quale domandiamo una breve cronistoria magari delle giornate che lei ha vissuto lì. Prima giornata di chiamata internazionale contro le politiche di austerity, queste quattro giornate sono state non quello che ci aspettavamo, nel senso che il clima di repressione è stato subito avvertito da quando siamo arrivati proprio a Francoforte, il dispiegamento delle forze dell'ordine era veramente sproporzionato rispetto anche proprio al numero di persone che affluvano a Francoforte, nel senso che poi le persone in tutta Europa sono arrivate a scaglioni. Il secondo giorno dei pullman che dovevano arrivare dal resto della Germania e dall'Italia hanno anche avuto difficoltà proprio ad entrare nel territorio francofortese per blocchiano subito dalla polizia, in alcuni casi rischiavano l'espulsione proprio dal territorio di Francoforte e alla fine se la sono cavate con un divieto di poter accedere alla zona di Francoforte, cosa che tutti i manifestanti poi hanno subito durante le varie giornate. La prima giornata era iniziata con un'accampata fuori la zona dell'ABC che è stata dopo poche ore sgomberata e in seguito ci si è riuniti in una delle varie assemblee che sono state fatte per organizzarsi. L'organizzazione cambiava spesso perché la polizia in qualche modo cercava subito di spegnere qualsiasi fuoco metaforico così potesse crearsi nella città, per cui era necessario proprio ora dopo ora cambiare un po' i programmi che poi venivano sempre repressi. La sera della prima giornata era previsto un rave, cioè una sorta di festa in una piazza per riappropriarsi appunto del luogo, era una serata doveva essere festuosa con musica eccetera, ma dopo pochi minuti già era stato circondato dalla polizia e quindi non è stato possibile portarlo avanti. Il secondo giorno era prevista una manifestazione che dovesse culminare nella piazza del municipio Polplatz e che partiva da due punti neuralgi della città, università dove si trovava l'ospezione anticapitalista di cui facevamo parte anche noi italiani, che eravamo in numero notevole rispetto anche ai sessi tedeschi che erano lì e il secondo spezzone che doveva partire invece dal municipio. In entrambi i casi abbiamo subito una forte repressione, nel caso dell'ospezione nel municipio più o meno i numeri erano abbastanza per far sì che qualche ora si resistesse. Nel caso dell'ospezione da parte dell'università, dopo pochi minuti siamo state accerchiate dalla polizia la quale ci ha intimato di raggiungere una negoziazione per fare sì che si raggiungesse il punto nevralgico a piccoli gruppi perché era stato dato questo divieto di girare in più di dieci persone alla volta e infatti anche le guide turistiche erano negate in quei giorni. Comunque non abbiamo avuto nemmeno il tempo di decidere se il negozio era o meno perché dopo poco ci hanno detto che dovevamo essere tutti quanti identificati e perquisiti e ci sono stati moltissimi arresti, diciamo ingiustificati senza nemmeno un criterio. Tra l'altro poi il trattamento era proprio ad personam, nel senso che le varie misure repressive che abbiamo subito erano veramente cucite addosso ma senza nessun motivo apparente. Il terzo giorno che doveva essere il giorno proprio delle azioni del blocchio Pai appunto ha visto una serie di azioni però anche in questo caso molto deboli, molto flebili perché veramente era impossibile raggiungere qualsiasi punto che già si trova la polizia lì in numeri giganteschi, questi caroselli che passavano 20 camionetti alla volta con le sirene accese e infatti anche in quell'occasione io personalmente sono stata di nuovo identificata ma eravamo veramente penso manco un centinaio su questo punto a fare una samba band ma la polizia c'è anche in quel caso diciamo represso e poi vabbè finalmente sabato si è riuscito a fare il cortè, un cortè molto partecipato si è parlato di centinaia di migliaia di persone noi eravamo nella spezione anticapitalista con il nostro spezione italiano Global Revolution siamo riusciti a circonnavigare la zona rossa ma mai a valicarla anche perché veramente c'erano posti di blocco ovunque quindi era proprio impossibile pensare di attraversarla. Tuttavia però l'obiettivo di bloccare il quartiere finanziario in qualche modo comunque è riuscito perché tutto questo dispiegamento delle forze dell'ordine ha fatto sì che gli uffici fossero chiusi e gli impiegati dislocati in periferia una valutazione complessiva tua personale dell'esperienza che hai vissuto lì? No, che diciamo appunto abbiamo vissuto questo clima veramente di tensione e repressione continua dicevo abbiamo parlato di questa metafora di sembrare di stare in Pac-Man perché veramente non potevi girare da nessuna parte che ti trovai poliziotti che ti braccavano diciamo in ogni minuto e la cosa inquietante è che poi fondamentalmente era veramente giocata una repressione giocata dal punto di vista psicologico e nemmeno fisico perché poi alla fine i poliziotti veramente non hanno mai cercato di fare violenza su nessuno ma diciamo stesso con la loro presenza fisica ovunque sono riusciti a far affievolire quell'entusiasmo diciamo iniziale di stare lì in tanti, riuscire a trovare un obiettivo comune da attaccare questa è stata la cosa terribile Si può dire questione ben diversa da quella a cui siamo abituati in Italia direi Sì, sì Quindi diciamo c'è stata questa sensazione di sentirsi sempre sotto controllo però immagino sia arrivata anche tanta forza so che appunto tu sei stata identificata una volta ti è stato detto se ti ritroviamo ti arrestiamo e invece sei scesa comunque in piazza la seconda volta No, no, in effetti diciamo erano credo provvedimenti fake nel senso che comunque tutti noi abbiamo appunto ricevuto questo divieto di girare in determinate zone della città però poi in effetti non è stato mai eseguito un protocollo tale che poi se ti ritrovassero effettivamente tu fossi arrestato cioè nemmeno nel mio caso e comunque la seconda volta sono stata identificata avevo il DASPO, non potevo trovarmi in quel luogo ma in effetti non è successo niente quindi era appunto tutto quanto volto a terrorizzarti e quindi a farti chiudere in casa e non uscire Un'ultima domanda perché siamo un po' stretti coi tempi come vi organizzavate? Cioè dato che appunto non era possibile concludere un'assemblea dandoci un appuntamento pubblico perché non vi si sarebbe potuti arrivare insomma ci sarebbe stata la polizia ad aspettarvi in che modo comunicavate tra di voi e aggivate poi nella... Comunicazioni verbali molto vaghe diciamo e sì che però in qualche modo venivano sempre poi rintracciate diciamo dalla polizia e poi eravamo divisi sempre in gruppi da massimo quattro persone per fare in modo che comunque appunto non potessimo essere fermati perché in più di dieci insomma Capito? Va bene, grazie, sei stata gentilissima Adesso che ci sta? I papanimici Sì, ecco.